Ora la prolusione tenuta dal professor Silvio Brusaferro, ordinario di igiene generale applicata del Dipartimento di Area Medica. La prolusione si intitola Salute e benessere per le comunità, il contributo della sanità pubblica. Magnifico Rettore, Assessore regionale Rosolen, Signor Sindaco, Presidente del CNR, autorità politiche, civili, militari, accademiche e religiose, colleghe e colleghi, personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti, signore e signori, consentitemi prima di tutto un sentito ringraziamento al magnifico Rettore per avermi invitato a tenere questa prolusione sulla sanità pubblica, che poi è la disciplina nella quale io sono docente e che è anche la mia passione. Il significato attuale del termine Public Health o Sanità Pubblica, poi spiegherò meglio il dettaglio, lo dobbiamo a Sir Donald Hutchinson, che è il Chief Medical Officer del Servizio Sanitario Inglese, che è stato il Chief Medical Officer e che nel 1988 l'ha definita come la scienza e l'arte di prevenire le malattie, prolungare la vita, promuovere la salute umana attraverso sforzi organizzati e scelte informate della società, delle organizzazioni pubbliche e private, della comunità e degli individui. In Italia la traduzione Public Health non è stata letterale, ovvero salute pubblica, ma il termine più che mente utilizzato è sanità pubblica, con l'inevitabile rischio di focalizzare il concetto di salute solo rispetto alla dimensione della sanità, che invece è una delle dimensioni necessarie per promuoverla. Ai fini di questa lettura, userò il termine sanità pubblica nella sua accezione internazionale di Public Health. Così definita, la sanità pubblica si configura con confini sfumati e permeabili, che le impongono di interagire e dialogare necessariamente con molteplici altri settori e discipline che contribuiscono in modo determinante alla salute. L'abbiamo anche sentito stamattina, economia, agricoltura, attività produttive, istruzione, ambiente, lavoro, trasporti, politiche sociali e così via. La definizione rende anche evidente come norme, modelli organizzativi e misure proposte dalla sanità pubblica nei diversi Paesi e nelle diverse epoche storiche sono fortemente legate ai valori e alle regole che caratterizzano le stesse società e le persone che la compongono. Questo può aiutarci anche a comprendere meglio le differenze odierne che esistono tra Paesi e anche all'interno degli stessi Paesi. Società, organizzazioni e comunità individui sono infatti i protagonisti del perseguimento della salute attraverso il loro sforzo organizzato e le scelte informate. L'aggettivo pubblico diventa così caratterizzante rispetto al centro dell'interesse, ponendo al centro dell'interesse la popolazione, l'azione collettiva della comunità e l'azione di governo. Quest'ultima richiede tra gli altri l'armonizzazione della partecipazione democratica con le conoscenze tecniche, il perseguimento della trasparenza proteggendo nel contempo la privacy e il generale mantenere fiducia nelle istituzioni. Con questi presupposti il dibattito sulla definizione deve rimanere costantemente aperto, perché legato all'evoluzione delle conoscenze e dei valori prevalenti nei diversi contesti, oltre all'esperienza e alle sfide di salute che le diverse comunità debbono affrontare. Non a caso la sfida globale della pandemia da SARS-CoV-2 ha posto la sanità pubblica e le sue funzioni tra le priorità da aggiornare e rinforzare in tutti i Paesi. Il Global Health Summit del 2021 e la dichiarazione finale dei leader durante il G20 a presidenza italiana nello stesso anno hanno dato un forte e decisivo impulso a questo processo, individuando tra le priorità il miglioramento della collaborazione internazionale in una logica One Health, ovvero una visione unitaria della salute umana, animale ed ambientale declinata attraverso una stretta integrazione operativa. L'aggiornamento in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità degli standard organizzativi della sanità pubblica a livello globale e la garanzia di presenza di professionisti di sanità pubblica, potenziando anche i loro strumenti formativi. Su questa forte indicazione l'OMS ha avviato un processo che, partendo dalla definizione dei piani di preparazione e risposta ai rischi per la salute, ha aggiornato le funzioni essenziali della sanità pubblica, che vedete qui riportate. Il perimetro di azione è così oggi ben definito, da 12 funzioni essenziali, tra loro interconnesse e interdipendente, e da 40 servizi da garantire. L'obiettivo attuale è quello di adottarli a livello globale, di renderli interoperabili a tutti i livelli, per supportare la formazione di professionisti capaci di esercitare le attività pratiche, è stato messo a punto e condiviso un insieme di 20 competenze, articolate in vari domini e, come vedete nella slide 3, questo processo ha visto l'Italia partecipare attivamente e ha trovato la sua conclusione tecnico-scientifica con l'approvazione del documento Competency and Outcome Framework Towards the Delivery of Essential Public Health Function, ovvero sia un documento che definisce le competenze a livello globale e questo documento ha trovato il suo completamento tecnico in Italia. Ora è al vaglio degli Stati membri e nella prossima Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prossima primavera, dovrebbe essere adottato globalmente. Il concetto di salute si sta ampliando. È uno strumento, ovviamente, dove la sanità pubblica è uno strumento per perseguire la salute. Se tutti conosciamo, come nel 1948 l'Organizzazione Mondiale della Sanità inseriva nel proprio statuto una definizione allora rivoluzionaria e tuttora valida di salute, uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto l'assenza di patologie e di infermità. Anche se ad oggi non ha trovato una nuova formalizzazione, questa definizione nel tempo è andata evolvendosi, riconoscendo come la nostra condizione di salute è dinamica, in relazione all'evolvere dei determinati del salute, ambiente, trasporti, condizioni abitative, ma dei fattori di rischio, fumo, alcol, attività fisica, alimentazione, violenza, dei nostri comportamenti, delle patologie e degli strumenti per superarle e controllarle. Dipende allo stesso tempo dalla nostra abilità di trovare continuamente il migliore equilibrio possibile tra i diversi fattori, che in sintesi si traduce poi nella nostra percezione di salute. In altre parole, ognuno di noi oggi ha un ruolo decisivo rispetto alla propria salute, attraverso le scelte quotidiane e la capacità di adattamento, oggi fortunatamente sempre più supportata dalle tecnologie. Altri fenomeni contribuiscono al progressivo allargamento del concetto di salute e una di queste è l'evoluzione del concetto di salute mentale, definita, è una definizione particolarmente rilevante oggi, stato di benessere mentale che consente alle persone di far fronte agli stress della vita, di realizzare le loro abilità, di apprendere a lavorare bene e di contribuire alla propria comunità. Il peso crescente epidemiologico e di carico di malattia, che i disturbi e le patologie legate alla salute mentale hanno ed avranno nei prossimi anni, e lo stesso benessere mentale, sono infatti determinanti rispetto alla nostra capacità individuale e collettiva di assumere decisioni, di costruire relazioni, demodellare il mondo in cui viviamo. Parimenti contribuisce ad allargare il perimetro del concetto di salute, il concetto di well-being, che tradotto in maniera estremamente molto semplice vuol dire benessere, che l'OMS definisce come uno stato positivo vissuto da individui di società simile alla salute e risorsa per la vita quotidiana, determinata da condizioni sociali, economiche ed ambientali. Attorno alla definizione di well-being si stanno sviluttando molteplici linee di lavoro, dalla messa a punto di un insieme di indicatori quantitativi da parte dell'Ocse, capaci di rappresentare sinteticamente, attraverso questa demissione, la crescita e lo sviluppo e la ricchezza di un Paese, andando così ad integrare un classico strumento, ma troppo essenziale oggi, che è il prodotto interno lordo, alla sua declinazione rispetto alla salute, come vedete qui rappresentato, considerata nei suoi grandi capitoli. E' proprio attraverso il concetto di well-being che la riconosciuta stretta relazione tra salute e dimensione economica è oggi oggetto di ricerca per una sinergia istituzionale tra sanità pubblica, economia e finanza. Se dall'altro infatti la pandemia ha reso evidente la stretta e bionivica la relazione tra salute e ricchezza di un Paese, dall'altra l'ampliamento della dimensione della salute comporta inevitabilmente un aumento delle risorse e degli investimenti necessari. Accanto ad una sensibilità che progressivemente ampia il perimetro della dimensione salute, molteplici fenomeni influenzano il suo perseguimento e impattano sui sistemi sanitari. Tra questi gli effetti del cambiamento climatico, l'emergere e riemergere di patologia infettiva a carattere epidemico, la presenza di guerre e conflitti, il numero di rifugiati, flussi migratori, le subentranti crisi economiche, l'urbanizzazione e la globalizzazione, ma anche fenomeni come l'antimicrobico resistenza, l'invecchiamento della popolazione e le crisi della natalità che colpisce un po' tutta Europa, l'aumento delle persone e degli anni vissuti con compresenza di più patologie, il crescente impatto di disturbi mentali e ancora il tema dell'equità in generale e specificamente di genere. Ulteriori fattori impattanti sono la spettacolare sviluppo e disponibilità dell'innovazione che comportano però anche costi crescenti e non ultimo la progressiva capacità di influenza della partecipazione civica. Si tratta di fenomeni con ricadute spesso globali che si declinicano molto velocemente, spesso sovrapponendosi, rendendo così più articolate e complesse le possibili risposte che debbono tenere fronte del fatto che capitale sociale, sicurezza economica, ambiente fisico, risorse individuali della comunità e rafforzamento dei sistemi sanitari influenzano positivamente il nostro stato di salute, mentre esclusione sociale, senso di frustrazione, disgregazione delle comunità e diseguaglianze agiscono in senso opposto. Ma tutti questi sforzi e investimenti sono in grado di migliorare la durata e la qualità della nostra vita? Se ci fermiamo un attimo e guardiamo indietro alcuni esempi possono esserci d'aiuto. All'inizio del secolo scorso, 1900, nel nostro Paese l'attesa media di vita alla nascita era pari a 41.9 anni. Oggi, a poco più di un secolo di distanza, l'attesa media di vita alla nascita raggiunge gli 83, più che raddoppiata. Lo stesso trend però lo viviamo a livello globale, dove a fronte di un'attesa nel novecento di vita media pari a 32 anni, nel 21 questa ha raggiunto i 71 anni. Questo straordinario risultato può essere attribuito a quattro grandi fattori riconducibili in gran parte a funzioni essenziali di sanità pubblica, il miglioramento degli standard igienici e delle condizioni di vita delle persone e delle comunità, il miglioramento degli stili di vita e delle attività che svolgiamo, il miglioramento della nutrizione, della qualità e quantità di cibo disponibile, i progressi della medicina e la disponibilità di organizzazioni sanitarie capace di garantire assistenza. Risultati altrettanto importanti ci vengono dall'impegno nel prevenire il cancro e contrastare il cancro. Oggi si stima che circa il 27% delle persone che hanno avuto una diagnosi di tumore, nel 2020 erano stimate intorno a più di 3 milioni e 600 mila persone italiane, possa essere considerata guarita, dove con il termine guarito si intende un paziente senza alcun segno clinico di malattia, la cui attesa di vita, o se volete chiamare meglio rischio di morte, è la stessa delle persone di pari età e sesso che non si ammalano di tumore. Questo risultato è dovuto certamente ai progressi della medicina e dai programmi di sanità pubblica, come gli screening e le vaccinazioni. L'HPV è uno dei più recenti. Ma vale la pena ricordare come i margini di miglioramento stiano dove, riducendo il consumo di tabacco, di alcol e l'obesità, oggi sono evitabili 46 morti ogni 100 mila abitanti ogni anno, tasso standardizzato. E riducendo e controllando i rischi occupazionali ed ambientali, le morti prevenibili per 100 mila abitanti all'anno in Italia sono 12. Si tratta in tutti i casi, questi, di ambiti elettivi, di programmi di sanità pubblica. La traduzione di sanità pubblica in Italia e nei nostri territori però avviene da lontano. Durante la stessa pandemia molte delle misure adottate, oggi classificate come interventi non farmacologici, sono riconducibili a misure che trovano la loro origine nell'Adriatico alcuni secoli or sono. La Repubblica di Venezia mise a punto a partire dal 1400 degli strumenti per garantire la salute, prevedendo e contrastando i diversi rischi. Era chiaro, già a quel tempo, un'epoca pre-microbiologica, che prosperità e ricchezza legate alle attività commerciali fossero messe a rischio dalla diffusione delle patologie e delle epidemie. Per questo la Repubblica istituisce una specifica magistratura alla salute, affidandoli poteri straordinari e adotta per prima nella storia misure come la quarantena, i lazereti, le fedi di sanità, il monitoraggio, oggi lo chiamiamo sorveglianza epidemiologica, dei nuovi casi anche fuori dai propri confini. Grazie a queste misure Venezia diviene il primo Stato capace di evitare la diffusione delle epidemie di peste nel proprio territorio. La Basilica della Salute è una testimonianza anche artistica che rende ragione di questo risultato. E lo fa per salvaguardare i propri commerci e la propria ricchezza. Ma la Serenissima, progressivamente, è andata normando una serie di altri ambiti, la cui tutela era sempre affidata ai magistrati della salute e alla loro tecna struttura. In queste norme, oltre alla gestione delle epidemie dei lazereti, si parla di igiene urbana, di controllo degli alimenti, di controllo dell'acqua potabile e delle fognature, del contrasto all'inquinamento, del controllo sulla preparazione e somministrazione dei farmaci, oltre che di regolamentazione di chi esercitava quelle che noi oggi chiamiamo professioni sanitarie. Di fatto, un vero e proprio manuale di sanità pubblica. A fronte di questi straordinari risultati, il problema di come comunicarli efficacemente è una delle sfide cruciali e delle frontiere della sanità pubblica oggi. Due limiti in generale rendono difficile fare di questi dati delle notizie attrattive e rapidamente diffusibili. Primo, avvengono in un arco di tempo molto lungo, abbiamo visto un secolo, e come risultato di progressivi e continui incrementi legati allo sviluppo di conoscenze e dalla disponibilità di strumenti. E questo mal si concilia con i tempi delle notizie che spessano un respiro di poche ore o di pochi giorni. Secondo l'efficacia degli interventi, spesso si esprime in termini di morti evitate o di eventi evitati. Lo citavo anche prima a proposito del cancro. Il confronto si pone quindi tra degli eventi accaduti che hanno un impatto anche emotivo sulla popolazione degli eventi che non si vedono, ma vengono quantificati con stime di mancato accadimento, quindi molto più difficili da visualizzare, molto meno emotivamente coivolgenti. La pandemia del SARS-CoV-2, oltre ad essere la prima della storia modellata nel suo decorso dall'uomo grazie alla sanità pubblica, alla scienza e alla tecnologia, pensiamo ai vaccini e ai farmaci, è stata anche la prima pandemia dove la comunicazione attraverso i media ha avuto un ruolo cruciale a livello globale, tanto da far coniare all'OMS il termine di infodemia, che l'OMS stesso definisce come un eccesso di informazione, inclusa in quelle false e fuorvianti, anche a livello digitale durante una pandemia. Ma il termine ormai è diventato parte del nostro vocabolario, infatti la Trecani così lo definisce, circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare delle fonti affidabili. Lo strumento cardine per la sanità pubblica del nostro Paese è il Servizio Sanitario Nazionale, che quest'anno compie 45 anni. I suoi principi fondamentali, i principi organizzativi, l'articolazione organizzativa, pensate che già nello 78 si parlava di un dipartimento One Health, che è il Dipartimento di Prevenzione, così come il continuo raccordo con le autorità sanitarie locali, in primis i sindaci, che sono la prima autorità sanitaria locale, poi autorità sanitarie regionali e nazionali, continuano ad essere attuali e ben si raccordano con le funzioni essenziali di cui abbiamo parlato e l'evoluzione del concetto di salute. Il nostro servizio sanitario è oggi osservato con attenzione anche a livello internazionale e per i principi cui si ispira e anche per la capacità di garantire significativi risultati in termini di sopravvivenza e qualità della vita in rapporto alle risorse come certificato dall'ultimo rapporto Ocse. Le emergenze globali e locali, se hanno accresciuto la percezione comune del valore del nostro servizio sanitario nazionale, allo stesso tempo hanno reso evidente la necessità di un suo rafforzamento e attualizzazione. In altri termini, i principi fondamentali e organizzativi e con essi la garanzia concreta per i cittadini di poter fruire delle funzioni essenziali e dei servizi a queste collegati, per poterle garantire, è importante intervenire con tempestività a livello di sistema, alloccando risorse adeguate per rendere ossistenibili, senza timore di sperimentare nuovi modelli e strumenti flessibili ed adattabili alle domande già note ed emergenti. Non è questa la sede per entrare nei dettagli dei possibili interventi. Sappiamo però che misurazione e valutazione dei fenomeni avvengono attraverso dati validati e certificati con metodo scientifico e vanno riportati a tutti gli interessati. Questo consente di progredire continuamente nella conoscenza e migliorare la qualità dei servizi. Oggi è in corso un significativo investimento sulla digitalizzazione, sia a livello europeo sia a livello nazionale col PNRR, che può consentire lo sviluppo di sistemi di dati tempestivamente condivisibili che possono essere trasformati in informazioni che possono supportare le scelte individuali di comunità. In questa prospettiva però il rispetto della protezione dei dati personali è importante, ma dobbiamo essere consapevoli che è necessario trovare un giusto punto d'equilibrio con le esigenze della sanità pubblica se vogliamo effettivamente utilizzare al meglio questi strumenti e supportare con metodo scientifico i processi decisionali e continuare nei treni di miglioramento. Mi avvio alle conclusioni. La recente pandemia ci ha reso più consapevoli della interdipendenza tra dimensione globale e locale, della reversibilità di alcuni indicatori di salute, pensiamo semplicemente all'attesa media di vita, così come del doppio filo che lega salute e benessere, per cui non c'è crescita di una comunità senza salute e non c'è salute senza crescita. A determinare la salute delle persone e delle comunità contribuiscono, come abbiamo visto, molteplici fattori. Questo comporta una consapevolezza e un impegno attivo delle persone e delle comunità nelle scelte che coinvolgono tutti gli aspetti di vita a partire dalla storica dialettica che accompagna le misure di sanità pubblica, nella ricerca di un punto d'equilibrio tra l'esercizio della libertà del singolo e le esigenze della comunità. Tutto questo richiede uno sforzo straordinario nell'aggiornare e adattare visione, strategie ed azioni a livello globale e per noi anche di Unione Europea. Per l'Italia questo significa in primis rafforzare e aggiornare il nostro servizio sanitario nazionale, salvaguardandone i valori principi e rendendolo sostenibile. Per poter fare al meglio sono necessari investimenti sulla ricerca, è stato detto più volte oggi, e sui professionisti del settore e sulla loro formazione. E qui è fondamentale il ruolo delle università con la loro capacità di contemperare universalità e radicamento nel territorio, come l'Ateneo di Udine ben testimonia. Si tratta di scelte e di investimenti che richiedono tempi lunghi, risultati, coordinamento tra i diversi settori, continuità e correnza negli anni per poter rendere evidenti e persistenti i loro effetti. È infatti molto importante essere consapevoli che i programmi di sanità pubblica devono essere supportati e mantenuti anche quando il problema per cui sono stati attivati sembra non essere più visibile o avere dimensioni limitate. I risultati e le conquiste raggiunti sono infatti spesso reversibili. E solo grazie a continui investimenti e alla continua attenzione possiamo controllare i rischi, modellare i determinanti di salute e garantire capacità e flessibilità di risposta nel momento in cui si propongono nuovi e inaspettati rischi di emergenza. Comunicare e rendere evidenti i benefici che i programmi di sanità pubblica apportano alla salute di ognuno è urgente, anche per rafforzare un altro fattore decisivo, la fiducia nelle istituzioni, elemento che anche in letteratura epidemiologica viene sempre più riconosciuto come elemento determinante rispetto alla capacità dell'efficacia e l'efficacia della nostra risposta alle crisi e alle emergenze. A fronte di queste sfide però abbiamo molti dati positivi. Abbiamo scenari di obiettivi condivisi, qual è l'approccio One Health, adottato anche dal G20 a livello internazionale, il percorso per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Abbiamo strumenti per misurare dove stiamo andando e per mettere in campo in modo coordinato i programmi. Abbiamo una riconosciuta tradizione nazionale e locale, declinata quotidianamente dai nostri professionisti e dai nostri ricercatori. Abbiamo università e enti di ricerca che possono supportarci con nuove conoscenze ed evidenze. Abbiamo anche filiere produttive nel nostro Paese e in Europa in grado di mettere a punto tecnologie innovative. Una frase molto nota di Enrico Mattei recita il futuro e di chi lo sa immaginare. Oggi il contesto storico ci chiede attraverso le nostre scelze personali e di comunità, attraverso la nostra ricerca e attraverso la nostra capacità di formazione come Atenei di dare priorità ai nostri interventi e di dare soprattutto priorità agli investimenti per contribuire a definire la salute e il benessere presenti ai futuri. La sanità pubblica con la sua storia, i suoi strumenti tecnico-scientifici ed i suoi professionisti è preziosa per aiutarci a costruire il presente e ad immaginare il futuro. Grazie per l'attenzione. Applausi Grazie 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 a tutti.